Come trascorrere questo Natale? Spero in serenità con la famiglia. In questo momento vogliamo fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori? È anche un momento, come sappiamo tutti, abbastanza difficile? Sì, naturalmente gli auguri ce li facciamo tutti perché è anche un modo per starci vicini, per augurarci davvero e non in maniera formale come altre volte, ancora più vera, la serenità. La serenità e la speranza del futuro, che sia una speranza principalmente di pace e poi tutto il resto, tutto il resto è molto importante ma la pace prima di tutto.